Al voto a luglio oppure all'anno prossimo, De Luca torna sulla questione delle amministrative regionali che il governo ha deciso debbano tenersi nel prossimo autunno e riconferma la sua volontà di andare alle urne in estate. Il presidente uscente tiene una sorta di conferenza stampa da campagna elettorale perché, lo si voglia o meno, il coronavirus è entrato prepotentemente nel lessico e nella bagara elettorale e i governatori che hanno avuto la sorte di avere danno minore dall'epidemia e cioè il nostro, Toti in Liguria e Zaia nel Veneto, ora intendono incassare i proventi del loro operato. Nella consueta diretta Facebook De Luca ha affrontato i temi generali e poi quelli politici. Scarta il voto in autunno, ritenuto impossibile perché potrebbe ripresentarsi il Covid e allora terzium non datur o a fine luglio oppure nella prossima primavera. Io credo che sia ragionevole arrivare a fine maggio e decidere sempre d'intesa con il Ministero della Salute. Se l'evoluzione è positiva io credo che tenendo conto di tutto la data più utile sia fine luglio, ultima settimana di luglio. Se ovviamente non ci sono le condizioni di tranquillità dal punto di vista epidemiologico è chiaro che si va in autunno ma a questo punto io ho la sensazione che non si potrà votare in autunno. Noi saltiamo un anno e si va alla prossima primavera.